un nuovo e importante traguardo nel cammino della scienza e dell'umanità intera. Dopo anni di segrete e costosissime sperimentazioni in tutto il mondo, è stato finalmente scoperto un farmaco che ha la straordinaria capacità di far tornare giovane chi ne farà uso. Chi ne farà uso? Ma la notizia sensazionale è che i primi al mondo a poterne fare uso sarete proprio voi. E già domattina, con la colazione, vi verrà somministrata la prima dose. Potrete quindi finalmente rivivere i vostri vent'anni, sia fisicamente che mentalmente. Si tratta, come potete facilmente capire, di una vera e propria rivoluzione. No, no, non ringraziatevi. In questo modo, certo, la mia attività è destinata a cessare. Ma io lo faccio per voi. Unicamente per voi. Hai capito quel paragolo di voi? Vorrà fare miliardi sulle spalle nostre. Prima ci hanno tolto la pensione e adesso vogliono farci tornare a lavorare. Giacomo, invece di restruzzate, dai, muoviti, veloce. Ma dove sta andando? Eh? Stiamo scappando! Ma siete impazziti? Proprio ora che stiamo per ritornare ai nostri vent'anni. Eh no, non potete farmi questo. Io non potrei sopportarlo un'altra volta. E allora, i discorsi d'oggi, com'era bello quando eravamo giovani. Eh? Com'era bello quando eravamo giovani. Ma stavamo scherzando, ma... Ma no! Sarà tutto diverso! Sarà una vita meravigliosa! Giacomo, aspetta! Ma svegliati, Simone! Noi non abbiamo fatto nulla di buono quando eravamo giovani. E ci abbiamo messo una vita per combinare qualcosa di buono. E tu vuoi rovinare tutto? Proprio la fine? Allora, addio! Dai, ragazzi, presto, sbrigatevi, sbrigatevi, sennò ci scoprono! Simone! Forse non te ne rendi conto, ma ci sono ancora i boschi e i boy scout! Oh, cazzo! Aspettatemi! Io ho sempre odiato le chitarre alla natura! Aspettatemi! Aspettatemi! www.mesmerism.info Grazie a tutti. Grazie a tutti.